70 immobili, 26 terreni, 6 società e oltre mezzo milione di euro. Siamo all'inizio del maggio scorso, questo è il bilancio dei sequestri nei confronti dei componenti del cosiddetto Clan delle Aste, organizzazione camorristica di origine avellinese, la cui reale esistenza è stata sancita ufficialmente nelle aule del Tribunale di Avellino lo scorso 27 aprile. Per i giudici Irpini di Aste e Ok, i dati processuali acquisiti a termine del dibattimento restituirono i contorni di un'organizzazione criminale ben ramificata e distinta dal ben noto clan Nuovo Partenio, sempre operante nel territorio avellinese. A farne parte nelle vesti di promotori, organizzatori e partecipi Nicola Galdieri, Livia Forte, Armando Aprile, Damiano Genovese, Carlo Dello Russo e Beniamino Pagano e come concorrenti esterni Gianluca Formisano e Antonio Barone. Oggi altro capitolo della vicenda giudiziaria con la conferma dei sequestri messi in atto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Il Tribunale del Riesame di Napoli, ottava sezione preseduta dal giudice Capozze, composta dai magistrati Ruggero e Consiglio, ha sostanzialmente certificato il sequestro disposto dalla DDA nel mese di maggio. Fissata per lunedì invece la discussione al Riesame del ricorso avanzato dall'indagata Livia Forte, che nelle indagini della DDA viene definita la signora delle aste. Visto il sequestro bis dei beni materiali già posti in essere, non ci saranno quasi sicuramente capovolgimenti di fronte.